Un caro saluto da Maria Giuliaci, il tempo previsto per mercoledì 8 maggio. Dopo la fugace fase di bel tempo di martedì, ritorna una perturbazione sull'Italia, perturbazione atlantica che però interesserà solo il nord Italia. Ecco come potete vedere allora il tempo previsto, piogge sul nord Italia, piogge anche probabilmente sull'alta Toscana, temporali dal pomeriggio nella Val d'Osta, debole, nevicate sulle Alpi. Le temperature saranno in lieve rianzo su quasi tutta l'Italia, tanto che si porteranno quasi ovunque nei valori medi previsti per questa perioda dell'anno. Termino qui, un caro saluto ancora da Maria Giuliaci.